Il martirio di Rolando Rivi è la testimonianza della forza mirabile che la fede sa ispirare. Con queste parole l'arcivesco di Modena Nonantola ha presentato le molteplici iniziative di riflessione e di preghiera organizzate assieme alla diocesi di Reggio Emilia in preparazione al rito di beatificazione di questo giovane seminarista morto in odor fidei alla giovane età di 14 anni. Indubbiamente è una testimonia, mi viene da dire, un po' una santità alla modenese. Non nel senso che i martiri siano di Modena o che i santi siano di Modena. Cioè il santo è sempre caratterizzato da un'adesione totale a Gesù Cristo, il martirio è sempre caratterizzato dall'odium fidei. Però se noi guardiamo un po' alle figure che in questi anni sono state portate avanti nella diocesi di Modena e sono portate avanti credo anche nella diocesi di Reggio, vediamo che sono caratterizzati fortemente dalla concretenza e dalla dimensione sociale. Rolando, figlio di contadini cristiani, aveva maturato presto un'autentica vocazione al sacerdozio. Erano gli anni della guerra e nel clima di odio contro i sacerdoti questo giovane ragazzo fu rapito da un gruppo di partigiani comunisti e barbaramente ucciso nel bosco di Piane di Monchio, sull'Apenino Bodenese. Il 27 marzo 2013 Papa Francesco ha riconosciuto Rolando come martire della fede. Da quel giorno tante le iniziative messe in campo che culmineranno con l'incontro la sera del 27 di settembre nel nuovo di Modena con il cardinale Camillo Ruini e con il triduo di preghiera il 27, 28 e 29 settembre nelle parrocchie delle diocesi di Reggio Emilia. Ci sono tante adesioni per questa celebrazione, ve le aspettavate? Così tante forse no, ma una buona partecipazione sì, così tante no e questo denota proprio come c'è un'attesa un'attesa nelle generazioni nuove, un'attesa nei ministrandi, un'attesa nei seminaristi, cioè nei giovani perché possono vedere in Rolando Rivi proprio un modello in un'età in cui si forma la loro coscienza in cui avvengono le scelte fondamentali e c'è un'attesa, mi viene da dire, anche nella società perché si sollevi quel velo di omertà e anche di silenzio che circonda ancora certi eventi. E questo è dovuto non a un revisionismo che fa buttare via alcuni valori della storia, la resistenza eccetera ma togliere quel carattere sacrale che è proprio di un'ideologia per cui, che porta a dire tutto quello che è di questa ideologia sia o qualsiasi sia, va bene. No, in tutte le realizzazioni umane ci sono degli aspetti da purificare.